Stredera Appua è ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. L'esterno offensivo classe 2004 ha firmato un accordo che lo lega definitivamente alla società rosa-nero. Chiusa dunque la sua esperienza in Francia con il Nantes. Appua aveva pubblicato un messaggio sui social per salutare la sua ex squadra. L'esterno d'attacco ha esordito nei professionisti con il Nantes dopo essere cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Il trasferimento nel 2020 dove è poi arrivato l'esordio in Ligue 1. L'inserimento del francese è nato a Parigi e completa il settore offensivo a disposizione del tecnico Dionisi. E intanto la società rosa-nero non si ferma e prosegue il lavoro di rafforzamento per il centrocampo. Nel mirino sempre Asa della Juventus oltre che Valerio Verre, ex Samp e Palermo, attualmente svincolato. E intanto per la partita d'esordio della nuova stagione del Palermo contro il Parma, l'11 agosto, l'arbitro sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Si tratterà del quinto incrocio dei Rosa con il direttore di gara che arbitrò la finale di ritorno al Renzo Barbera contro il Padova, partita che stancì il ritorno in B dei Rosa di Baldini.